Quando ho conosciuto i ragazzi da scuola, ho partecipato a una vittima, a un incontro con Elis e Giovanni, c'erano 10 studenti, c'erano io, c'erano altri due capelli, c'erano una madre che si usava con noi, il papà era con la sua mamma e in quel contesto si doveva con il suo figlio. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.